Questa mattina, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno arrestando 24 persone, su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Monza, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina e distorsione. Viene così smantellata una rete di narcotraffico, radicata nel milanese e in collegamento con l'Albania, che alimentava una fitta rete di spaccio in Italia e Svizzera. L'operazione vede impiegati oggi quasi 200 carabinieri nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza-Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia, Cosenza. I militari stanno effettuando anche 40 perquisizioni e sequestrando i proventi dell'attività di spaccio, pari a centinaia di migliaia di euro.